Lo sogno, sogno la libertà per tutte le donne iraniane e le mie figlie apprezzano la libertà di cui hanno potuto godere e di cui possono godere. Sicuramente torneranno, torneremo tutti, ma il punto ora è che dobbiamo sostenere i giovani che sono privi di armi e che però protestano per i diritti umani di base. Una volta avuto successo potremo tutti rientrare e contribuire a ricostruire il paese. Abbiamo tantissime persone intelligenti, competenti all'interno del paese e fuori di esso e quando verrà quel giorno insieme alla Comitazione Internazionale ci daremo una mano e torneremo tutti a ricostruire questo bellissimo paese.